La logica è logica deduttiva, logica è induttiva le premesse e le conclusioni devono essere più plausibili delle loro negazioni. L'obiettivo della logica è induttiva infatti arrivare a una conclusione plausibile, non ha una conclusione vera. Forza induttiva di un ragionamento induttivo aumenta o diminuisce a seconda di quante informazioni abbiamo. Invece la logica deduttiva ha come obiettivo la verità della conclusione. Le premesse devono essere vere affinché la conclusione sia vera. Nella pratica ci troviamo quasi sempre davanti a ragionamenti induttivi e non deduttivi. Generalizzazione in debite. Addicto secondo un quid, addicto un semplicità uguale dall'essere detto secondo una circostanza, all'essere detto in ogni circostanza possibile. Tutti i casi f osservati finora osservati sono g, quindi tutti gli f sono g. La forza induttiva di una generalizzazione aumenta quando il campione di eventi osservati aumenta. Più è piccolo è campione e più si rischia che la generalizzazione sia in debita non induttiva. Nella generalizzazione induttiva non si esclude che esistono casi non osservati in cui f non è g, si afferma che è più plausibile che f sia g piuttosto che f sia non g. Ad esempio, dire che i cani hanno quattro zampe non è vero nel 100% dei casi, ma è più plausibile della sua negazione? Poiché di regola i cani dovrebbero avere quattro zampe ma purtroppo esistono alcuni casi drammatici in cui i cani non hanno quattro zampe. Argomenti circolari. Petitio principi. È una delle fallace più difficili da individuare. Esse viene data già per dimostrata la conclusione. Anche circoli viziosi e il regressus ad infinitum sono argomenti circolari. Esempi. Dio esiste perché c'è scritto nella Bibbia. Le FAQ News sono tali perché lo dice il TG. La comunità scientifica dice che le medicine alternative sono sbagliate. Domanda complessa. Domanda in cui viene sottointesa e scontata un'altra domanda. Spesso lascia spiazzato l'interlocutore. Sei d'accordo con la legittima difesa? Hai smesso di picchiare tua sorella? Fallace semantiche. Pasano su fraintendimenti linguistici. Ce ne sono di vario tipo. Fallace di ambiguità o di equivocazione. Una parola può avere più significati anche se si scrive nello stesso modo e si possono fare molti fraintendimenti. Esempio. Carboidrati, intesi come glucidi, sono fondamentali per la nostra salute e per la nostra sopravvivenza, non possiamo rinunciarvi. Pane e pasta uguale carboidrati, per antonomasia. Pane e pasta sono fondamentali per la salute umana e per la nostra sopravvivenza, senza di essi non possiamo stare e non possiamo rinunciare ad essi. Linguaggio pregiudizievole. Consiste nell'usare per descrivere la propria tesi dei toni anfatici o dispregiativi per cercare di far passare per vera o per falsa la tesi. E' più che altro uno strumento retorico. Ad esempio, patria al posto di Italia, stato o nazione. Botolo al posto di cane. Sodomita o contronatura al posto di omosessuale. Grazie. Grazie.